Start, 2, 1, Mission, and Liftoff! Quanto si è già visto con Paper Please, cioè dobbiamo controllare i passaporti, il nome, vedere se siamo in una dogana, insomma per chi non conoscesse il gioco Paper Please, controllare se la faccia della foto corrisponde, ispezionare le macchine e beccare la merce di contrabbando e arrestare i sospettati, lasciare passare quelli invece non soggetti a irregolarità. Una delle cose curiose e del motivo per cui ho preferito iniziare da questo punto, dove io ho fatto le prime due giornate, sbagliando anche, è il fatto che si può guidare ed è una cosa veramente interessante perché noi ci troviamo, vedete, al posto di frontiera e dietro ho caricato uno dei due prigionieri che avrei dovuto beccare la prima volta e che purtroppo non ho beccato, e quindi ne ho solo uno anziché due e li sto portando al campo di lavoro. Il gioco è ovviamente ambientato in un ambiente, diciamo, di Est-Europa e stiamo guidando. E vedete che si può attivare anche la sirena? Si possono attivare gli abbaglianti? Si può attivare il giro? Non so cosa sia. Ah, si spegne il motore, ok. Ed è una figata che non pensavo ci fosse nel gioco, infatti appena l'ho visto ho detto qua registriamo subito perché ci sta. Questo è un motel e quello che poi abbiamo a livello di inventario sono gli oggetti che ci servono ad aprire i sedili in caso di merci di contrabbando, aprire gomme, aprire i cieli delle auto e così via. Qua c'è qualcosa che non... Quanto pare l'ultimo tempo l'ha abbattuto, non possiamo andare oltre, ok. Ok, si spegne il motore, ho già capito cosa dovevo fare, scendo. Prendo l'ascia dal bagagliario in manierata, ce l'ho già l'ascia. Un po' stile survival. Ok. Intanto diamo un'occhiata anche al tipo dietro se... Eh, non lo vediamo. Signori, io sono un agente di dogana, eh. Oh, mi scusi, mi sto intracciando il traffico. Va bene, ripartiamo. Eh, perché ho scelto di partire da questo punto? Perché probabilmente avete già visto sui vari video che si trovano online le ispezioni in dogana, ma in realtà volevo segnalarvi anche che non è tutto lì, insomma, perché si viaggia per questa mappa anche piuttosto grande dell'est Europa. Qui ci sono delle vecchie rovine. Tra l'altro dovremmo anche assumere una guardia carceraria, cosa che io non ho al momento, perché i prigionieri della cella momentanea lì presente in dogana potrebbero fuggire. Ho visto che ci sono anche delle scene di sparatoria, quindi il gioco sembra essere molto, molto più profondo di quello che sembra. E, perlomeno nelle zone in cui ci troviamo a ispezionare, diciamo, i visitatori in dogana, lo trovo anche piuttosto rilassante, poiché io l'ho giocato con in sottofondo una partita o il gran premio di Formula 1, quindi, insomma, è chill, come si usa definire. Ok, siamo arrivati al campo di lavoro, fermati il cancello e ordina il trasporto di tutti i prigionieri. Perfetto, quindi scendiamo. Tra l'altro non ho visto se ho la benzina, cosa che mi fa impazzire quando c'è la benzina in un'auto. Qua ci sono le luci, vabbè, dai, spegni il motore, scendi, e ordiniamo a lui di prendersi i prigionieri. Trasmetti tutti i prigionieri, ok? Abbiamo preso 100 dollari, abbiamo bisogno di un nuovo braccio per lavorare, ok? Il tizio dovrebbe essere stato messo al lavoro. Ora vai al negozio di Vlado per acquistare un po' di strumenti. Ricordati la regola, niente utensili, niente merce di comprare. Spero di poterla girare qua, la macchina. Accendiamo il motore. Dov'è il negozio di Vlado? È lì, quindi bisogna adesso vedere se riesco a girarla qui. Dovrei. Andando a sbattere un po' di qui in po' di là. Oh, abbiamo un picchiato dentro, vabbè, ma è tutto sgangherato qua, quindi non dovrebbe essere troppo un problema. Ok, dobbiamo andare in... Andiamo in su. Sì, scusi, io sono la polizia, adesso non è che mi suonate unità per due, perché... Secondo me l'idea degli sviluppatori c'è, perché hanno, diciamo, creato un po' più di varietà ad un gioco che già di per sé, con l'ispezione dei vari passaporti, era di intrattenimento, era un passatempo, un puzzle game, perché bisognava anche fare attenzione. Tra l'altro dovete stare molto attenti ad essere sempre, svegli, attenti e rigidi, perché la percezione del personaggio cala se siete stanchi. Ora, stiamo andando, siamo delle reclute e ci hanno già iniziato a dire, speriamo che tu possa durare più dell'ultimo tizio. Io poi, all'ultimo tizio, non so cosa che sia successo in dogana, però va bene. Tra l'altro io con le dogane non ho mai avuto problemi, ma ho sempre avuto tanta ansia, ingiustificata. Però, mi crea sempre un po' di soggezione. Ok, parcheggiamo qui, al Vlad Shop, spengo il motore, scendo e vediamo cosa vende. Oh, mi scusi. Va bene. Ok, si invita il nuovo comandante frontiera, mi chiamo Vlad, vendo attrezzi e armi, munizioni e affidabili. Spero che te la graverai meglio di Rosnikov. Un altro che cita sto tizio. Va bene, acquista. E lui vende questa roba qui. Ma io cosa devo comprare? Non me lo dite? Rivoluzione a merce e contrabbando. Ok. Utensili. Ci sono strumenti necessitari per restare il contrabbando. Lame, tagliano a tappezzarie pneumatici, contundenti rompono all'esterno del veicolo, asci aprono, casse e serbatoi. Pale per scavare tra i carichi sciolti, che consentono di cercare tra il fieno. Gli attrezzi si usurano, ricordate che è bellissima anche questa cosa. Tra l'altro non mi dice che cosa devo comprare io qui, quindi non so se me lo posso immaginare. Possiamo ripetere la giornata. Vediamo se le indicazioni... Ok, vedete, questo è il livello di percezione esausto. Il magazzino ci spiega un po' tutto. Io qui onestamente non so che cosa comprare. Compra un po' di utensili. Tra l'altro io non ho 500 dollari. Potrei, potrei comprare una pala che mi manca, un tubo del gas, non vende fucili, no, le armi le vende ma costano un botto. Allora, io comprerei, vediamo un attimo, il bistui coltello tattico, lasciacelo, mi manca la pala o il badile, c'è differenza? Io compro questo. Ok. Ultima fermata, c'è entrare la polizia. Ok, mi sta facendo vedere tutto quello che poi posso comprare. C'è una polizia che trasmetterà in autorità la merce contrabandata. Perfetto, accendiamo, vediamo dove è la stazione di polizia. Mamma mia, sei lontano. Allora, adesso esco, senza guardare se arriva qualcuno. Possiamo girare in su? Sì, dovrebbe essere una stradina secondaria questa. Infatti c'è il divieto di sorpasso, perché ha senso alternato. Speriamo di non incontrare nessuno. Beh, tanto il cugino di Maisa Mercant non c'è qui, credo. Quindi andiamo avanti così. E poi spero di farvi vedere anche un po' di, perché mi ha divertito molto, un po' di ispezione in caserma, al valico, insomma, come si definisce, a stazione di frontiera. Ecco, ho trovato il termine. Quanto potrebbe costare un gioco del genere? Io me lo immagino sui 20 euro. 15-20 euro. 15 intrigante. 20 euro, forse siete appassionati, ma non necessariamente di queste, dei giochi doganali o di Paper Split, ma il fatto di potervi gestire delle risorse. E il fatto comunque poi di dover viaggiare. Ok, andiamo a incontrare la polizia. Vado a parlare con l'ufficiale. Spunto fuori il braccio ogni tanto. E consegnargli una merce intercettata, perché abbiamo caricato nel furgone la merce, vedete qua, che io ho sequestrato. Vabbè, l'accetta di pompiere la mettono qua. Ho sequestrato questa, che non si può pronunciare sul tubo. E dovrei averne sequestrato anche altra, ma ho fallito il colpo prima, quindi avrei dovuto ricominciare. Vabbè, magazziniere, trasmetti la merce di contrabbando. Perfetto, l'abbiamo fatto. Ci hanno pagato. Bravo, sale a bordo, torno al posto di frontiera. Perfetto, forse riesco a farvi vedere anche un po' di ispezione in frontiera. Abbiamo visto, c'è la segheria, utensili di Vlado, c'è la locanda, il cimitero, la centrale di polizia e la frontiera. Ora, giriamo il furgone qui, se riusciamo. Questo è un magazzino. Pecchetti non vanno, quindi devo girare un po' così. A caso. Mamma mia. Allora, dobbiamo uscire e andare a... Possiamo andare di qua e procedere lungo la strada fino a destinazione, quindi senza più prendere deviazioni. E il problema è che non so quale sia la strada principale, quindi devo sempre tenere praticamente alla destra tutti i passaggi. Con la V possiamo vedere dall'esterno, che forse è un po' più carino, un po' più chiaro, ma trovo molto più immersivo la guida in prima persona. Poi, in quanto visto, ci saranno anche gli scontri a fuoco, quindi potrebbe essere davvero, davvero molto interessante. E non voglio che si... che si pensi che sia strettamente legato soltanto all'ispezione in caserma alla frontiera. Perché potrebbe far pensare a una sorta di PC Building Simulator, cioè dove noi ogni volta abbiamo uno strumento in più e così via. Sarà anche così. posto di frontiera. Complimenti, hai fatto un attimo lavoro. Come vedi, il camion... Come vedi il tuo lavoro? Non si... Eh, ho capito benissimo. O lo parcheggio qui perché l'avevamo già messo là. Quindi... Sì, si entra da qui. E mo? Ok. O devo entrare? No. Devo andare qui. Qua c'è il giornale, che adesso non c'è. Si entra qui. Questa è la nostra casa e si può andare a dormire. Ora, passa la notte, arriva il giorno e abbiamo... Ci viene addebitato l'acquisto che abbiamo fatto, la manutenzione della proprietà, la retribuzione personale perché noi gestiamo tutta la baracca qua e la manutenzione dei veicoli. Abbiamo guadagnato 400. Bene. Ora, siamo in un nuovo giorno e vediamo che cosa ci aspetta. Poi, sulla longevità, onestamente, non so dirvelo. Ci aspetta un'altra giornata intensa al confine. Vi faccio vedere questa. Qua vengono segnate i regolamenti di ingresso e i contrabbandieri. Quindi, possiamo dare un'occhiata che i nostri servizi hanno ascoltato una conversazione telefonica abbiamo ottenuto informazioni concrete su un altro contrabbandiere. Arriva dal regno di Archei. Ok, qua invece con effetto dal 19 aprile. Oggi dovrebbe essere il 19 aprile. Sì. Allora, dal 19 aprile il Ministero dei Trasporti apporta modifiche e regolamenti per il trasporto di merci all'interno dell'Archaristan. Ogni conducente in possesso di merci deve avere una lettera di vettura valida. Qualsiasi discrepanza nella documentazione deve comportare il rifiuto dell'ingresso. Perfetto. Questo sembra giusto, giusto un camion da carico quindi ci mettono subito alla prova. Noi poi possiamo sbagliare. Dobbiamo sempre ricordarci che qualora notassimo qualcosa di irregolare dobbiamo farli scendere dall'auto perché questi qui potrebbero anche scappare. Salve. Con la luce con la F normale F ancora UV diamo un'occhiata se ci sono merci contraffatte cioè ci sono merci nascoste perché i contrabbandieri segnano eventuali serbatoie e cose varie con il simbolino di un serpente. Ora io voglio fare una cosa fatta bene e quindi gli dico subito che questa sarà una cosa lunga quindi io gli chiedo i documenti non posso dirgli che di scendere perché preferirei no non si può vabbè diamo un'occhiata e facciamo un controllo allora intanto qua abbiamo vabbè una guida qua invece abbiamo il rapporto di ispezione quindi ci viene segnato tutto in automatico allora vediamo subito la foto con i basettoni così si è lui la data vediamo il nome corrisponde il passaporto corrisponde vedete se c'è qualcosa che non va ce lo segna l'unica che dobbiamo mettere noi personalmente è la fotografia valido fino a 11 maggio quindi ancora un mesetto buono siamo nell'81 ecco questo non ve l'avevo detto carico carico confermato si trovano sul tavolo vediamo un attimo appunto sul carico e qua abbiamo altri oggetti no allora c carico confermato vediamo un attimo lui aveva detto che ci portava allora una cucina fai vedere scusa cosa è raccontare tutte le merci trasportate questo ricordino premuto lb allora cemento cemento per 2 cemento per 3 cemento per 4 che tengo premuto e lo conto quindi abbiamo una cucina ok un batter un'altra cucina questo questo e questo quindi vediamo un po' laio di petrolio ho qualche problema con il mouse come sempre col tasto destro perché mi si sporca sempre perfetto ora puoi confrontare e fai che ci metti i tuoi dati con la lettera di vettura ora richiudo carico confermato cemento 10 cucina gas 3 sapone 1 toilette 1 no toilette 2 c'è qualcosa che non torna perché non ho contato una sola torno su a vedere perché toilette 1 e ce n'è una sola il carico non corrisponde e no ragazzo molto male voglio vedere se viaggi con un batter a fianco ma dubito fammi già dare un'occhiata qui se c'è qualcosa di strano mi sta facendo sta scendendo perché appunto voglio dare un'occhiatina ok si può dare un'occhiata anche al motore volendo perché spesso nascondo una roba anche lì quindi vorrei dare un'occhiata anche qui ma non mi pare di vedere niente di regolare le gomme gli do un'occhiata veloce giusto anche qui per anche il serbatorio c'è niente no ok sembra a posto allora signore allora c'è qualcosa che non mi torna perché voglio essere sicuro toilette 1 trasportatore Ivanovic Ivanovic frigorifero 2 e no ragazzi qua avete due frigoriferi e un bagno cioè non corrisponde quindi controllo concluso ha rifiutato e no non torna mi dispiace mi dispiace perché sembra non glielo chiuso ma si chiude solo quando parte lui adesso farà il giro e tornerà indietro e il DDT è importante quindi mamma mia se curva c'è dei canotti al posto vediamo se è giusto eh sì dovevo segnalare non so come fare però avrei dovuto segnalare un'irregolarità ora questo qua è un po' il figlio dei fiori e già se ti vieni in frontiera con un furgone del genere e non ho pregiudizi però ti chiedo i documenti tu hai il colbacco e non hai barba ora guardiamo sì sembri tu ok il passaporto corrisponde ok data di nascita vabbè commercio valido fino ad aprile dieci giorni no scusate sto continuando a confrontare cose che non c'entrano una fava ok corrisponde data di scadenza abbiamo già detto che corrisponde allora non c'è nulla di irregolare ma ok andiamo a segnare il carico aspettate un secondo ma incontrare bandiere regno di archei vediamo un po' voglio dare un'occhiata a sto tizio qui da dove arriva perché regno di archei questo potrebbe essere un contrabbandiere quindi medicinali 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 fertilizzante questo quello quello c'è altro sì fatemi apparire qua questo questo si apre anche di là no dovrei aver segnato quasi tutto però fatemi vedere ha tre cassette di medicinali vedete a me piace tantissimo sta cosa allora fatemi vedere allora carico confermato tre cassette di medicinali ci siamo due sostanze infiammabili due ok tre fertilizzante e dovrebbe averne sette e due cucina grassa allora diamo un'occhiata se mi sono perso del fertilizzante magari un'occhiata ok primi e per disimballare il carico non può vedere qui dentro selezionare i punti di carico ok non so cosa io stia facendo ma li sto disimballando tutti gli stiamo tutti con ecco fatto il carico già sui tavoli è possibile contare gli oggetti ah così è molto più comodo certo allora fatemi solo vedere una cosa perché qua voglio dare un'occhiata se è tutto regolare perché sto qui arriva da un regno dove si pensa possa arrivare un contrabbandiere quindi mi fare dare un'occhiata sedile va bene nel motore non c'è niente andiamo e diamo un'occhiata alla roba sui tavoli che è qua ok si può dare un'occhiata allora questo lo fanno in dogana ma in casi estremi insomma allora bisogna parire un po' poco ortodossa come cosa ma dobbiamo parire col piede di porco questa è una tannica di alcol un'altra tannica di alcol questo è un contrabbandiere ora vediamo se con l'accetta riusciamo ad aprirla alcolici qua no e alcolici poi fertilizzante il coltello dobbiamo usare quindi usiamo questo no ok fertilizzante a posto mannaggia non abbiamo un manganello e qua è fallita vabbè perfetto abbiamo gli estremi per arrestarlo perfetto e lui viene portato qui in cella ora occupati di qualche altro veicolo allora molto interessante perché dopo andando avanti avremo anche il controllo del posto di frontiera quindi l'assunzione del personale sembra davvero essere molto interessante questo titolo e ovviamente attendo vostra info per vedere se magari farci un altro episodio o addirittura una live ora qui parlando con lui possiamo dirgli di liberare il campo quindi di liberare spazio quindi il furgone del filo dei fiori mi ha portato via e vedete che tra i contrabbandieri segnalati non c'è più nessuno noi continuiamo così facendo le nostre missioni facendo i nostri incarichi potremmo anche andare non credo durante l'orario di lavoro però dobbiamo andare a comprare anche il manganello perché il manganello è importante dato che non potevamo aprire quelle cose non possiamo mollare il posto di lavoro così e lasciar fermo la frontiera per quanto non passi tanta gente allora questa è la contrabband polissa fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e alla prossima ciao ciao